Martedì 15 marzo sarà la giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare. Il comune di Selvazzano in provincia di Padova, in collaborazione con l'associazione Ali di Vita, ha programmato una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini su un tema che coinvolge un numero di persone sempre maggiore. Dove c'è questa malattia qua c'è un grande peso nel cuore. Le famiglie molto spesso si sentono in colpa, nascono appunto meccanismi anche sbagliati e bisogna aiutare assolutamente in queste fasi qua praticamente della malattia e anche per dare gli strumenti adeguati ai genitori o agli amici, insomma ai conoscenti, per aiutare il percorso di guarigione che magari il caro sta seguendo, insomma presso qualche equip, cioè con l'aiuto di qualche equip specializzata. Ecco, l'isolamento non aiuta assolutamente anzi. Se ci sono problemi collegati alla sfera dei disturbi a comportamento alimentare è importante rivolgersi ai servizi specialistici e noi a Padova abbiamo presso la terzo servizio psichiatrico, la clinica dell'azienda ospedaliera del professor Santonastaso, un dei hospital e un servizio ambulatoriale apposta per i disturbi al comportamento alimentare. Alle 20.45 al Centro Civico Presca San Domenico si terrà un incontro presieduto dalla psicologa e psicoterapeuta Michela Pepe, esperta nella prevenzione e cura delle problematiche e patologie degli adolescenti ed esperta nel sostegno alle famiglie. La serata proseguirà con la proiezione del film documentario Ciò che mi nutre, mi distrugge, che racconta storie di disagio, sofferenza, senso di inadeguatezza, ma anche di speranza che si esprimono attraverso il tragico tentativo di dominare il proprio corpo. Sarà aperto ufficialmente anche uno sportello dove ci saranno dei gruppi di ascolto e successivamente dei gruppi di auto mutuo aiuto.